Sì, assolutamente, siamo in play-off, tutti quanti giocano al miglior pallavolo che possano, sono belli allenati, carichi, quindi assolutamente ci aspettavamo questa partita qui. Noi ci siamo giocati male alla fine del secondo set, però abbiamo tenuto due cose positive, qui non è facile giocare, ovviamente, stanno lì sullo stesso livello, come ho parlato la regular season, quindi bisogna giocarsela a gara 3. Abbiamo tutti, come per tutti, giocare in casa è sempre meglio, quindi sicuramente ha influito, loro sono abituati al palazzetto come noi lo avevamo in casa nostra, quindi ovviamente uno in casa riesce a dare qualcosa in più. Lo sapevamo, abbiamo affrontato al migliore che potevamo e sono stati bravi oggi, nulla da dire, sono stati migliori di noi. Ma in realtà nulla di diverso da quello che abbiamo fatto prima di gara 1 e gara 2, allenandoci al meglio, rivolgendo la partita, come faranno loro, quindi con la testa giusta e pronti, questi sono i play-off e funziona così. Grazie a tutti.